giornata importante perché i dati sull'inflazione europea e nel pomeriggio anche l'inflazione americana oggi è uscito il PCE che è un altro indicatore non è il CPI classico ma è un indicatore quello che è uscito oggi che sembra sia quello maggiormente considerato dalla Fed comunque entrambi i dati sia dell'inflazione europea che di quella americana sono risultati inferiori alle aspettative quindi hanno dato un colpo al ribasso all'inflazione confermando un po' questo clima di entusiasmo che si è instaurato a partire da ieri dopo appunto l'intervista all'esponente della Fed Falco, Mr. Waller che ha detto appunto che va bene così i tassi sono a livello per cui l'economia probabilmente sta rallentando e quindi va bene così anzi può darsi che se l'inflazione resterà per un po' di mesi a questi livelli non ha detto a questi livelli diciamo ai livelli di target quindi dovrebbe ancora scendere verso il 2% poi dopo diversi mesi può darsi che cominceremo ad abbassare i tassi questo ha ovviamente dato il colpo di grazie ai supporti dei rendimenti sia del decennale tedesco che del decennale americano che già da qualche giorno stavano venendo in giù in particolare il decennale tedesco con un gap al ribasso rompe il canale di vecchio canale di regressione dico vecchio perché ieri abbiamo parlato che potrebbe poddarsi che appunto adesso cominceremo a considerare uno nuovo dipendenza maggiore il sospetto ci era venuto nei giorni scorsi chi segue queste cose le ha sentite nei giorni scorsi ci è venuto da che cosa dal fatto che tecnicamente questo minimo importante con due hammer e il bullish engulfing è stato negato velocemente nel giro di due giorni quindi con la rottura del livello di 2 e 5 e questo probabilmente è stato il campanello d'allarme che qualcosa stava per succedere e oggi è successo quindi rottura siamo arrivati a 2 e 4 il target di questo movimento potrebbe essere la rivisitazione degli altri supporti in area 2 e 3 per il decennale americano il target è area 4 lo abbiamo detto nei giorni scorsi perché qua c'è in ballo un test spalle ribassista del quale stiamo vedendo la violazione in questi in questi giorni in queste ore della neckline movimenti dei bond sono molto più regolari meno a strappi rispetto a quello dell'azionario anche se negli ultimi mesi abbiamo visto volatilità pure sui bond però comunque come vedete i movimenti sono sempre molto regolari e procedono a cadenza diciamo senza appunto grossi strappi grossi range intraday quindi anche un meno 1 e 13 per il decennale americano che in questo momento si trova a 4 e 27 questo in altri tempi il misere è aspettato in una situazione del genere più 2 per cento sull'S&P 500 andiamo a vedere il pesato oggi perché è singolare più 0 28 fatto qui sui massimi no sta cercando di rompere l'ultima resistenza che lo separa dai massimi dell'anno che era il gap del 2 di agosto questo qui questo rettangolo giallo quindi una giornata del genere in questo momento segna più 0 26 20 27 mancano a parecchie ora la chiusura i volumi calanti va bene i volumi del thanksgiving ma il thanksgiving è passato e qua i volumi non si vedono quindi sono livelli dove un breakout fatto così diventa molto sospetto tra l'altro sul pesato e quindi questo ci fa mettere subito l'attenzione l'attenzione sui fang in una giornata del genere no con gli indici azionari che sono tutti comunque positivi che più chi meno i fang cominciano a rollare verso il basso a parte invidia che segna ancora invidia tesla che hanno dei rialzi marginali cominciamo a vedere meno uno meno uno e mezzo quindi c'è qualcosa che forse sta cambiando lo vedremo nei prossimi giorni quindi c'è questa situazione oggi con i mega i mega titoli che condizionano gli indici pesati che stanno frenando un po' tutto quanto mentre l'rsp che è l'altro etf che seguiamo noi guardiamo questi etf che sono quotati in america perché sono molto liquidi ci danno i volumi una buona idea di quello che è l'andamento dei volumi sul cash no sull'azionario su tutto tutto il complesso delle azioni che sono sottostanti all'indice quindi l'rsp l'altro etf che seguiamo sempre sempre i 500 però sono 500 azioni qui pesate guardate la differenza qui rispetto ai massimi ce ne vuole siamo 6 per cento qui siamo dal punto di vista tecnico ancora in un contesto di rimbalzo rispetto a tutto il movimento primario ribassista luglio ottobre un rimbalzo che in questo momento si trova sul 61,8 per cento di ritracciamento del movimento precedente un livello di fibonacci avevamo delineato 146 41 questa linea bianca tratteggiata no era il massimo del range di questi due giorni abbiamo detto che l'uscita ci avrebbe dato l'uscita questo range ci avrebbe dato un po la direzione stiamo tentando l'uscita verso l'alto però anche qua più 0 76 no in una giornata del genere coi rendimenti che crollano è strano questo comportamento questi volumi molto scarsi vediamo come finirà la settimana abbiamo ancora due giorni e sono comunque situazioni tecniche che non trovano non trovano conferma come vedete ogni volta che ci troviamo in queste situazioni abbiamo sempre delle situazioni poco chiare no dove poi ci mancano quelle che sono le conferme importanti andiamo all'europa questo è lo stocks 600 e anche qua oggi ci attendevamo qualcosa di più più 0 45 in una fascia qui di resistenza data dalla media a 200 in area 4 e 56 e poco sotto come dicevamo ieri il livello di 4 e 60 dove passano i massimi che hanno fermato i massimi del diciamo delle settimane mesi precedenti dove si sono fermate le avanzate dell'indice in particolare mi riferisco a questo gravestone d'oggi del 15 settembre poi guardate qui a questo cluster di star con l'ombra verso l'alto questa è un'altra area di resistenza importante ci siamo proprio adesso quindi questo è 4 e 60 siamo poco sotto 4 e 59 ma come ci stiamo arrivando ci stiamo arrivando anche qua vediamo la mappa del mercato qua da azionario stocks 600 ricordo che preferisco in queste situazioni guardare questi indici più ampi questo rispetto al che per esempio al dax che solo 40 titoli qui vediamo 600 titoli europei quindi non solo riferiti a una razione una regione tutta europa compresa svizzera e gran bretagna che comunque economicamente volenti o non volenti fanno parte del nostro sistema e questa è la giornata di oggi quindi non è una giornata di verde omogeneo non è una giornata di rialzi sperticati perché i tassi scendono non c'è più l'inflazione vediamo i titoli del lusso che tra l'altro hanno sofferto tutta la settimana e registrano performance settimanali abbastanza negative poi magari lo vedremo venerdì a bocce ferme comunque oggi qua vediamo tanto rosso un po di grigetto poco verde energia stessa cosa servizi al consumatore abbiamo tanto rosso tanto grigio verde qua e là ma diciamo è dal punto di vista composizione del rialzo lascia molto al desiderare su scala 30 minuti ieri avevamo visto la formazione di un gap ribassista nel video di ieri che non avesse visto abbiamo descritto la situazione stock 600 gap ribassista m30 cosa vuol dire m30 30 minuti la scala 30 minuti a volte scendiamo sull'intraday quando sul daily non abbiamo particolari informazioni vediamo se l'intraday ci anticipa qualcosa la rottura ieri era buona al punto di vista tecnico ha rotto una bella figura di distribuzione con un gap una bella espansione secondo me la media 200 il colpo l'ha preso poi oggi chiaro con i dati sull'inflazione c'è stato l'entusiasmo soprattutto in fase di apertura la candela dove mi trovo ora la candela delle 9 30 queste sono candele ogni candela 30 30 minuti c'è stato un'ora di euforia e poi il resto della giornata siamo andati di lato quindi allora dal punto di vista tecnico il gap è stato ricoperto quindi il segnale annullato attenderei un attimo anche domani per vedere se questa questo consolidamento riesce a resistere sopra 4 e 58 soprattutto considerando quello che abbiamo visto prima sul cosiddetto breath respiro cioè la composizione di questo più 0 45 di oggi che da un punto di vista tecnico lascia un po' da desiderare questi sono i fatti le opinioni poi ognuno può pensare quello che vuole le opinioni sono tutte lecite però noi dobbiamo questo è un canale di analisi tecnica le opinioni ce le scambiamo da un'altra parte su twitter qua parliamo di grafici parliamo di livelli parliamo di indicatori parliamo di volumi e cerchiamo di restare i fatti come fanno tanti amici che giustamente ci segnalano torno sulla scala dei dice guarda abbiamo anche altri indicatori che ci dicono che il rialzo potrebbe essere farlocco perché un bull market col dow jones transportation che sta dove sta qua e dice anche questo finora non l'abbiamo mai visto è vero quindi questo è uno degli altri tanti indicatori che ci dicono che non mancano le conferme abbiamo l'S&P 500 pesato ai massimi e l'indice dei trasporti su una media 200 piatta che allo stesso livello l'indice di agosto 2022 quindi ecco questi questi sono una volta vogliamo parlare di walmart è il principale catena di distribuzione americana e 70 per cento del pila americano è fatto sui consumi questo è il gap che ha fatto il 16 novembre non chissà quando pochi giorni fa presentazione degli earnings con previsioni sul comportamento dei consumatori più debole per il prossimo futuro questi sono fatti tecnici non sono opinioni gap ribassista tentativo di formazione di un minimo arrotondato per cercare di andare a chiudere il gap oggi bearish engulfing a proposito dei mercati a rialzo con i tassi che crollano che bello è finita l'inflazione walmart meno 1 72 questo è un altro segnalo un bearish engulfing sulla candela di ieri questi sono segnali tecnici il resto ripeto le opinioni lasciamole in altri contesti ottima la segnalazione del dow jones altra segnalazione riguarda poi per quanto riguarda la giornata parte vabbè il petrolio ormai aspettiamo decisione europe comunque stiamo salendo a 77 l'oro si conferma lì sui massimi tonfo del gas europeo meno 6 e 69 però questo molto volatile guardate questo salta da una parte all'altra diciamo fra 35 e 52 chi vuole divertirsi è una mina vagante cioè schizza da una parte all'altra non c'ha molta coerenza tecnica questo strumento e va così allora continuiamo con le richieste a questo punto e un amico chiedeva un parere tecnico su first quantum minerals titolo settore minerario e qui break ribasso ne abbiamo parlato ieri dei coltelli che cadono e del comportamento dopo il tonfo diciamo che qui sta proseguendo è proseguito un po tanto il momentum di breve è calato perché qui abbiamo avuto il coltello che cade picco dei volumi che generalmente dovrebbe frenarlo il movimento cioè provocare almeno una fase laterale almeno un rimbalzo di 50 per cento no della caduta almeno quella più recente invece qui abbiamo avuto rimbalzino proprio minimo è un lento proseguimento verso il basso tecnicamente qua non c'è nessun segnale di reversal possiamo vedere che il momentum discendente è calato però la pressione dei venditori in questo momento soprattutto non si trovano compratori ecco questo ci sta dicendo magari i venditori hanno calato un po la pressione delle vendite però i compratori sono molto prudenti quindi attenzione andare a vedere qui i fondamentali se c'è qualcosa che non va altra richiesta netflix calo dei volumi questo diciamo che fa il paio con quello che abbiamo visto prima con gli indici dei tecnologici un altro titolo che adesso sta sparando star a raffica tutte in orizzontale tutte vicine al massimo un'altra ad oggi star del 18 di luglio con tutto in divergenza attenzione qua se dovesse cominciare a rollare verso il basso la direzionalità lo sta già facendo il dmi positivo potrebbe trattarsi di un top questo con il ritest possibile di area 4 e 50 e poi li vediamo di che natura era quest'ultima lega rialzo fatta senza volumi un altro amico proponeva il wit perché secondo le sue informazioni è ben comprato dalle mani forti ripeto noi qua facciamo analisi tecnica tempo fa l'avevamo guardato perché era rimasto lo scarabocchio questo scarabocchio se non ricordo male voleva dire che era informazione un possibile minimo arrotondato ma come possiamo vedere la diciamo il non c'è stato il completamento della figura no che avrebbe dovuto andare verso la media 200 e quindi possiamo anche cancellarlo io direi che qua segnali di reversal non ce ne sono abbiamo un trend ribassista molto regolare da dove lo vediamo dal fatto che non ci sono per il momento ancora divergenze chiare sul dmi negativo e quindi qui fino a quando non violeremo la vu stop secondo me è difficile io dal punto di vista tecnico non ho elementi ecco per chiamare possibili figure di reversal un altro amico e qui saltiamo un attimo abbiamo parlato del grano quindi saltiamo un attimo cambiamo strumenti andiamo un attimo sul forex noi non guardiamo molto i cross però dal punto di vista tecnico alcuni sono interessanti euro franco svizzero oggi questo meno 0 6 interessante perché va a chiudere e rompere una figura di possibile distribuzione di breve fatta proprio sulla media 200 qui a 0 96 a 0 97 diciamo e e quindi si conferma diciamo questa possibile fase laterale con il ritest della parte bassa a 0 95 anche il dmi negativo ha incrociato quindi anche qua non abbiamo grossi segnali di reversal almeno fino a quando ecco direi l'amico se proprio pensa di voler diciamo monitorare lo strumento per cercare dei break verso l'alto importanti di guardare questo cuneo che si sta formando perché la vu stop è diventata è vero positiva ma la media 200 ancora è una resistenza molto importante quindi da seguire l'evoluzione quello che accadrà appunto alla fine di questo cuneo da che parte usciranno i prezzi va bene io direi per oggi è tutto appuntamento a domani non perdetevi i prossimi video perché come vedete la volatilità c'è magari non ci sarà sempre solo sugli azionari però la vediamo anche sugli altri strumenti grazie a tutti per l'attenzione iscrivetevi ai canali appuntamenti a domani